Buongiorno a tutti i giovani che gioca, acquistiamo i gettoni. Conoscere il mio amico Zac. Non ricordo che mi hai mai parlato di questo tuo amico. Sì, è vero, ma non l'ho fatto appositamente. Così tu sei Thomas. Sì. Chi sono, credo? Non iniziale e ti consiglio di non crearmi problemi, chiaro? Zac, non puoi farmi questo. Smettila! Sono solo Zac. Ciao, vi aspetto al cinema. Zac. Ciao, vi aspetto al cinema. Grazie a tutti.